Questa è la più iconica sfida conosciuta al mondo. Questo è Jake Parker, un fantastico illustratore che ama usare l'inchiostro e, credeteci o no, ha iniziato l'Inktober per migliorare le sue skills sull'inchiostrazione. Bentornati ragazzi, io sono Aurin Art, la vostra illustratrice. Se sei nuovo e vuoi approcciarti al Inktober per la prima volta, sei nel canale giusto. In questo video ti spiegherò cos'è l'Inktober, di quali materiali ti dovrai ingaggiare e come affrontarlo. Le regole dell'Inktober sono piuttosto semplici. La prima è disegnare con l'inchiostro 31 disegni, di cui uno al giorno, per tutto il mese di ottobre. La seconda regola è postare sui social ed infine aggiungere l'hashtag Inktober. Trovate la prompt list ufficiale praticamente ovunque. Per essere più specifici lo trovate sia nel sito ufficiale dell'Inktober, sia nel suo account Instagram. Ma per facilitarvi il lavoro metto in questo video la prompt list di questo anno, ovvero la prompt list del 2022. Tip numero 1 Le idee Il primo problema che emerge da questa sfida è trovare l'idea. Ci sono alcuni temi semplici, come ad esempio Storm, tempesta, o Aski, il cane, e altri un po' più complessi, un po' più astratti, come per esempio Ego, per fare una citazione di un tema di quest'anno. Di conseguenza il primissimo consiglio che do è di andare a guardare la prompt list sempre all'uscita, ovvero il primo settembre, in modo tale da crearsi un'idea generale e andarsi a cercare tema per tema, significato per significato. In questo modo vi avvantaggiate per affrontare poi la vera sfida il primo ottobre. Tip numero 2 Non stressarti Non sentirti sotto pressione. Linktober può dare l'idea di essere un mostro cattivo con il coltello che ci osserva mentre disegniamo, in modo tale da vedere se riusciamo a finire entro il tempo datoci. Per nostra fortuna, non è così? Forse. Di certo, se siete nuovi, 31 disegni possono risultare veramente pesanti. Per lo più ci sono persone che lavorano, che vanno a scuola, che hanno molte cose da fare, ed è ovvio che in questa situazione una persona si metta in confronto con altri artisti. Questo tipo di atteggiamento può stressarvi veramente tanto. Non è necessario per me, quindi, dirvi che questo non è l'approccio adatto. Bisogna iniziare con l'idea di disegnare per se stessi perché vi piace, perché amate disegnare. Se non riuscite a trovare l'idea del tema attuale, non fa niente, andate su quella successiva. Se finite Linktober a metà novembre, non succede assolutamente niente, nessuno vi giudica, nessuno è qui per giudicare. Linktober è un invito a migliorarsi, non a distruggersi. Per lo più abbiamo centinaia e centinaia di alternative. Se cercate online delle prompt list non ufficiali, avete veramente una scelta vastissima di temi. Andate voi stessi a cercare. Prendete la sfida con filosofia, con leggerezza. Deve essere un gioco per voi. Tip numero tre. I materiali. I materiali sono importantissimi. Ed inizio col dire che il miglior modo per poter rendere Linktober più semplice è usare fogli piccoli. Io vado dall'A5 in giù. Infatti, l'unico anno in cui sono riuscita a finire Linktober è quando ho utilizzato un foglio come questo, che è ancora più piccolo dell'A5. Per spendere di meno ho usato un blocco d'acquarelli A3 composto da 12 fogli, in modo tale da poterli dividere in dei pezzi di A5 e ho speso praticamente la metà. Questa in particolare è una carta della marca Winsor & Newton, che è una delle mie marche preferite. 25% di cottone e la grammatura importantissima di 300. Per un approccio più professionale consiglio questo tipo di grammatura qua. Si adatta molto bene ai liquidi, assorbe e non si piega. Per abbozzare io uso sempre una matita HB. Secondo me è la morbidezza più ideale di Mina. In particolare uso questo tipo di matita qui, con le Mine. Questa è una 0.5 mm. È perfetta per quelli come me che non vogliono sporcare troppo il foglio, vogliono essere molto precisi. Non lo so, secondo me è molto meglio di una matita tradizionale. Ti dà un'idea più definita della Line Art. Non fatevi mancare una buona gomma da cancellare. Io uso la Standler, anche la Faber-Castell è fantastica. Non tutte le gomme sono carine. Fate una prova prima su un foglio. Molto utile anche questa durante le bozze. Una gomma con delle ricariche, molto fina. Vi lascio tutto ovviamente in descrizione. Ultra fine, 2-3 mm. Io consiglio anche la gomma pane. Per quanto riguarda la Line Art, io uso le Micron e una Brush Pen. Le Micron sono favolose. In particolare la 0.03 è uscita da poco. Permette di fare dei dettagli fantastici. La Brush Pen invece è utilissima per avere una modulazione sulla linea. C'è poi chi aggiunge un tocco di colore. Per una colorazione coprente consiglio Polycolor. Sono molto semplici da usare, sono a base d'acqua. È un colore vinilico fine. Molto interessanti. Dopodiché invece se volete colorare un po' come l'acquarello consiglio le fantastiche Ecoline. Che sono sgargianti e facili da usare. Farò un video sull'Ecoline e ve lo metto nella bandierina qua. Ci sono anche degli articoli molto interessanti che vorrei includere nel mio Inktober nei prossimi anni. Ad esempio abbiamo il Black 0.3. Il nero più nero del mondo. Il rosa più rosa del mondo. O addirittura l'argento più riflettente. Vi lascio delle recensioni. Tip numero 4. Rimanere sul semplice. Il mio personale obiettivo del Inktober è non solo quello di finire tutte le illustrazioni. Ma è anche quello di farli nel mio stile abituale. E come ben sapete chi mi segue, il mio stile abituale è super dettagliato, super complesso. La mia sfida è essere veloci coi tempi senza perdere di qualità. Ma è una sfida mortale. Non fate come me, non prendetemi d'esempio. Io sono veramente una pazza psicopatica. È la verità. A me serve per allenare la velocità e la flessibilità in un campo più professionale. La cosa migliore per una persona che si approccia al Inktober è fare cose semplici adattandole al proprio stile. Non complicatevi la vita. Non fate cose esagerate. Volendo potete anche copiare. L'importante a quel punto è che quando andate a postare il disegno mettete le credenziali del vero artista. Altrimenti vi potete incappare in qualche problema di copyright o di proprietà intellettuali. Ed è meglio di no. Tip numero 5 Divertiti Ed è ovvio dirvi che tutto ciò nasce per divertimento. Chiamate un amico, create un gruppo dove disegnatevi, scambiate le idee. Non bisogna per forza prenderlo seriamente. È bello anche solo il potersi sperimentare, mettersi in gioco. Magari, che so, crearsi la propria lista con le nostre cose preferite per 31 giorni. Si può fare. Nessuno vi dice di no. È completamente libero. Le regole dell'Inktober sono una scaletta da rompere. Veramente divertitevi. Sperimentate, fate, colorate, distruggete, mandate a fuoco la casa, non lo so, fate qualcosa. Potete prendere in mano anche la vostra biro e disegnare sul vostro diario di scuola, per dire. In sostanza, penso che l'Inktober sia un'opportunità per migliorare a 360 gradi, per trovare un proprio stile, una propria linea di racconto. Siamo comunque costretti in questi giorni a trovare delle soluzioni, un po' fuori dalla nostra comfort zone, che tra l'altro ci possano soddisfare e quindi ad introdurli nel nostro stile quotidiano. Se avete difficoltà a trovare ispirazione, vi lascio una lista dei miei artisti preferiti. Li trovate su Pinterest. Qui abbiamo sicuramente Jake Parker, Andrew, Aaron Horkie, James Jean, Loputin, Zenshin, Pix Kefir, Lauren Marx. Non avrò pronunciato tutti i nomi giusti, scusatemi. Il nostro video finisce qui, godetevi l'ottobre e noi ci vediamo nel prossimo video con la prima settimana dell'Inktober. Ciao ragazzi! Ciao!